In questo tempo canteremo una canzone che parla... Non lo so se la posso fare, no? Vabbè, dovrei cantarvi una canzone che parla della 127 Blue. Ma il Sparroco vi ha detto che è meglio che non la cani... Vabbè, possiamo fare uno strato. Una canzone che parla d'amore, diciamo, e basta. Insomma, parla di amore... Ah, ti facciamo vedere l'amore proprio nel senso proprio materiale. Giornali, Scorch, si attaccano sul viso della macchina per non farsi vedere quando si ama con la propria ragazza. Quella cosa molto importante quando si va con la ragazza nelle campagne e in frattarsi, bisogna portarsi dentro un pacchetto di... Un pacchetto di Mendoz, che hai capito? E Tony, e che cosa ci devi fare con le Mendoz? Con le Mendoz si possono fare anche le canzoni. Questa è una canzone di vent'anni fa che ho scritto per voce e Mendoz. Senti qua, senti qua... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.